buongiorno buongiorno sto andando a prendere giuseppe qua e vabbè allora come è andata a finire gliele fatto una telefonata vabbè cuore tranquillo lo so che immagino quanto sia difficile però alla fine faglia l'hanno telefonata non succede niente facciamolo guarire va facciamolo guarire già immagino quello che stai pensando lascia perdere qua intanto alla fine diciamo che che è una situazione molto delicata e magari degli pure evita di stati un po' fermo stati un po' tranquillo di cerca di guarire di prima di lo so che lui dice non è una cosa semplice ma infatti come ho sempre pensato io magari noi siamo bravi a parlare però non siamo ovviamente non stando nel settore quindi non riesce a capire magari che non c'è possibilità di attendere fino a quando uno non guarisce vabbè vabbè cuore mio dai con tranquillità senza figure una telefonata non è che ci cambia la vita eh va bene eh no mo stamattina un altro cazzo praticamente c'è per le officine siccome mo dal primo gennaio 2023 diventa obbligatorio essere iscritti alla sezione meccatronica per poter essere iscritti a questa sezione meccatronica devi fare un corso di 500 ore cioè praticamente due volte a settimana sono dei corsi di 6 ore comunque mo sto cercando un'alternativa perché è assai cioè veramente c'è 500 ore non passano mai ma devo vedere se si può mettere un responsabile tecnico perché c'è il cugino di nonno che è ingegnere meccanico e mi sa che si può inserire come responsabile tecnico esterno almeno per qualche anno stiamo tranquilli diciamo ma c'è per complicare la vita le persone lo stato italiano sta fatta apposta che hai detto eh vedi ah che poi non è che sono solo le 500 ore poi devi andare a fare ad esempio assurda una cosa del genere cioè nonostante tu questo mestiere lo fai da una vita devi andare a fare 150 ore di corso pratico presso un'altra officina che ti indicano loro cioè allucinante e a parte i costi esagerati anche per affrontare questo corso ma vabbè core è veramente a dire andate a fare in culo tutti quanti cioè è pazzesca una cosa del genere il mio diploma non serve un cazzo perché praticamente devi essere un perito meccanico cioè devi avere una scuola diversa io ho l'istituto tecnico commerciale invece devi essere diplomato in l'istituto tecnico industriale che era la scuola che facevo prima perché avevo fatto tre anni di perito meccanico però poi non l'ho finita perché poi mi feci delle variazioni e me ne andai a fare visto tecnico commerciale il cosiddetto ragionire stupido eh vabbò vediamo come meglio possiamo sistemare qua si iniziano a posizionare le bancarelle per Federico ma domani porta pure pioggia core eh non rompessero i coglioni perché veramente se piove cioè cioè ad ammalarci già sto fregato con la dura figuriamoci se dobbiamo sfilare pure sotto la pioggia vabbè vediamo un po' vabbè cuore mi è venuto il singhiozzo aggiornaci un po' di situazioni se l'hai chiamato non l'hai chiamato se hai ritenuto opportuno farlo non farlo fammi sapere va bene me cuore mio mi raccomando eh andiamo avanti lottiamo sempre eh che abbiamo avuto un bel messaggio da Padre Pio ma veramente bello stamattina praticamente quando ho letto il tuo messaggio mi veniva da piangere eh vabbò eh meno male eh vabbè sono sogni bellissimi cioè che poi sono sogni veritieri cioè capito come se fosse vera ma c'è lì con te io ne sono certo cioè capito eh perché tu hai queste visioni di Padre Pio ed è stupendo bravo cuore bravo eh bellissimo bellissimo non riesco a togliermelo dalla mente già immagino lui seduto con la mano su di te bellissimo che ti devo dire cuore che ti devo dire strafelice strafelice va bene e sicuramente se parliamo con Padre Pio anche sul discorso del del Don sicuramente Padre Pio ci dirà di mettergli una pietra sopra sul passato sicuramente lui ragiona così anche perché dice sempre Padre Pio che il perdono è un atto non di debolezza ma è un atto di di come si dice è un atto immenso che non tutti possono e sanno fare vabbè dai andiamo avanti cuore beh fammi sapere va bene? beh ciao bello un bacio un cuore e un abbraccio spero che se ne sia caduto un po' quel coso sotto l'occhio poi mi dovevi far sapere là che dovevi fare la vista oculistica là come è andata eh io sono sempre in attesa lo so che sono tante le cose che devi dirmi e sicuramente certe volte te le dimentico vabbè te le dimentico vabbè non ti preoccupate te le ricordo io va bene? beh aggiornami su tutto attendo due ciao cuore mio a dopo ciao 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 ciao